Siamo qui con Davide Renzulli, Head of Advisory di Columbia Threadneedle. Dottor Renzulli, qui al Salone del Risparmio, la sua società è presente con uno stand. Quali temi avete portato per i visitatori? Buongiorno, questa per noi è la decima edizione del Salone del Risparmio da quando siamo presenti sul mercato italiano. Per noi è sempre importante partecipare al Salone per incontrare esperti e professionisti del settore e capire un po' quali sono le mode e le tendenze del momento. Non a caso quest'anno abbiamo voluto anche noi adeguarci al tema settoriale della tecnologia, un settore che ha dato molta soddisfazione agli investitori negli ultimi 12-18 mesi, ma che secondo noi può ancora essere foriero di opportunità di investimento per gli anni futuri. In tal senso la nostra soluzione quest'anno è proprio un fondo legato alla tecnologia, Global Technology Fund, che chiaramente offre una gestione attiva nel campo della tecnologia a 360 gradi. Per cosa si caratterizza questa gestione che è una gestione azionaria? Sì, è un fondo azionario globale gestito in modo attivo che punta proprio sulla selezione dei migliori titoli all'interno del settore tecnologico. In modo particolare non siamo focalizzati su robotica o digital, ma più verso quello che è il settore dei semiconduttori e dei software, che secondo noi sono molto promettenti e lo saranno anche per i prossimi anni. È un prodotto, come dicevo, che fa molta gestione attiva, proprio perché è per noi importante individuare quelle che sono le migliori aziende ed evitare quelle che sono le trappole di valore. E questo ci consente nel corso degli anni di poter generare rendimenti superiori alla media. Il fondo è partito nel 2010 e ormai a distanza di otto anni vanta un ottimo track record, diciamo così anche confermato da molteplici autorità esterne alla nostra società. Grazie dottor Renzuli. Grazie, buongiorno. Grazie.